Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, benvenuti ad una nuova puntata della TG Italicom. Questa settimana vi porteremo in un viaggio esplorativo attraverso storie affascinanti che mescolano scienza, tecnologia, natura e cultura. Ci lanceremo innanzitutto nello spazio con l'audace proposta italiana di ospitare l'Einstein Telescope e scopriremo perché la Sardegna potrebbe essere il luogo perfetto per ascoltare le onde gravitazionali. Da lì voleremo in Umbria per parlare di 17 aziende dell'Umbria Aerospace Cluster che saranno protagoniste a Parigi dove tra pochi giorni si terrà il 54esimo International Paris Airshow di Le Bourget. Cambieremo poi Rauta e ci immergeremo nelle acque della Puglia dove la campionessa olimpica Federica Pellegrini ha preso parte un emozionante rilascio di una tartaruga caretta caretta salvata e curata dal centro di recupero e soccorso di Lega Ambiente. Infine parleremo di cibo e ci trasferiremo a Napoli dove l'Unione Pizzerie Storiche Napoletane e ha organizzato una mostra dedicata alla pizza e all'arte dei pizzaiuoli. Esploreremo insieme i cent'anni di tradizioni tecniche, usi e costumi legati a questo iconico piatto italiano. Ma iniziamo subito, bando alle chiacchiere. L'Italia si candida a ospitare l'Einstein Telescope e la Sardegna, come dicevamo prima, è il luogo ideale per ascoltare le onde gravitazionali. Vediamo. Con la presentazione della candidatura italiana per Einstein Telescope da parte del Presidente del Consiglio, Giorgio Meloni, il grande progetto scientifico europeo radica la sua localizzazione nel territorio di Sos e Natos in Sardegna. Fondamentale infatti è stata l'individuazione del sito geologicamente compatibile per il corretto funzionamento del rilevatore di onde gravitazionali più sensibili al mondo. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, partner del progetto ET, svolge esperimenti nella miniera di Sos e Natos già dal 2019. Grazie al progetto MIT, finanziato dal MUR con fondi Next Generation EU del PNRR, realizzerà le infrastrutture di un nuovo osservatorio geofisico sotterraneo presso la miniera di Sos e Natos, destinato a studiare l'interno della Terra da un punto di osservazione privilegiato in cui la quiete sismica e geodinamica contribuiscono a garantire dati geofisici di eccellente qualità. Il progetto Instant Telescope vede la partecipazione di molti ricercatori e tecnologi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che operano nell'ambito delle ricerche geoscientifiche, collaborando attivamente con oltre 1300 ricercatori da tutto il mondo impegnati nella realizzazione del progetto europeo. All'evento che si è tenuto nella sede dell'INAF all'Istituto Nazionale di Astrofisica è intervenuto anche il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani. Quindi c'è una grande passione italiana per quello che è sopra di noi e quindi è giusto che l'Italia si candidi ad essere sede di questo telescopio che rappresenta il massimo della ricerca in questo settore e credo che sia giusto anche che sia la Sardegna ad ospitare questo telescopio perché anche da un punto di vista così storico-culturale i primi affascinati dalle stelle sono stati i pastori e gli uomini di mare e la Sardegna è una terra di agricoltura ma anche di mare quindi anche il luogo ha un suo significato culturale ma noi siamo in grado di offrire grazie a un sistema di ricerca nel settore dello spazio di altissimo livello di poter veramente rappresentare un valore aggiunto per un telescopio internazionale Queste invece le parole del Premier Giorgia Meloni la attenzione, la volontà, la dedizione che il governo italiano intende mettere sulla candidatura dell'Italia a ospitare l'Einstein Telescope volevo che fosse presente, che fosse chiara questa volontà nonostante, ripeto, sia un po' difficile incastrare tutto in queste giornate a tal proposito voglio dire particolarmente al professor Parisi che se un giorno ci fosse anche un teletrasporto anche quello mi candiderei a ospitarlo possibilmente a casa mia così risolveremo un po' dei problemi perché sta diventando tutto un po' complesso però davvero a parte gli scherzi ci sono qui persone e le ringrazio ovviamente tutte molto più autorevoli di me per raccontare il valore di questa candidatura sulla quale il governo italiano e tutte le istituzioni coinvolte compresa la regione Sardegna ovviamente ringrazio anche il presidente Solinas sono concentrate quello che voglio dire io è che il simbolo di questa candidatura è soprattutto il simbolo di un'Italia che vuole guardare verso l'alto ma che in quel guardare verso l'altro vuole dire noi siamo capaci di grandi imprese perché lo abbiamo già fatto lo abbiamo già fatto molte volte lo abbiamo fatto come testimoniano alcune persone che sono su questo palco come testimonia questo luogo splendido che ci ospita che pure ringraziamo come dimostrano altre infrastrutture che pure vengono ospitate in Italia penso a quello che ad esempio accade in Toscana o a quelle che abbiamo contribuito a costruire come nel caso del Cile c'è un'Italia che è sempre stata capace capace di pensare in grande sono 17 le imprese di Umbria Aerospace Cluster che parteciperanno al 54esimo International Paris Airshow di Le Bourgete il salone internazionale dell'aeronautico e dello spazio che si aprirà a Parigi il prossimo 19 giugno nel prossimo servizio ti andiamo a conoscere sono 17 le imprese di Umbria Aerospace Cluster che partecipano al 54esimo International Paris Airshow di Le Bourgete il salone internazionale dell'aeronautico e dello spazio che si apre da Parigi il prossimo 19 giugno dello stand realizzato con il sostegno di Regione Umbria e Sviluppo Umbria le aziende e le cluster che operano nel settore dell'aerospazio e della difesa presenteranno alla committenza internazionale i propri servizi e le eccellenze tecnologiche del settore il salone di Le Bourgete che si svolge ogni due anni ha il più grande evento al mondo dedicato all'industria dello spaziale e rappresenta un luogo di incontro e di convergenza privilegiato per gli operatori del settore e la partecipazione di Umbria Aerospace Cluster a Le Bourgete è stato presentato in occasione della conferenza stampa a cui hanno partecipato l'assessore regionale allo sviluppo economico Michele Fioroni e l'amministratore unico di sviluppo Umbria Michele Dashur e il presidente di Umbria Aerospace Cluster Daniele Tonti oltre ai rappresentanti delle imprese che aderiscono al Cluster e che parteciperanno al Salone Internazionale dell'Aeronautica e dello Spazio nato nel 2008 per l'iniziativa di sei aziende oggi il distrutto dello spaziale dell'Umbria conta 38 soci che hanno acquisito una molteplicità di competenze nella progettazione e nella produzione di componenti meccaniche motoristiche e strutturali finite sistemi di attozione elettromeccaniche idrauliche, equipaggiamenti e aerostrutture integrate sistemi elettronici e dracidi di lancio di controllo, antenne, filtri, sistemi attivi passivi di telecomunicazioni, arrestimenti e attrezzature di produzione e impianti di collaudo della resistenza climatici e ambientali il fatturato complessivo del Cluster è di 550 milioni di euro di cui il 50% di esportazione diretta le aziende hanno circa 3500 dipendenti diretti dei quali oltre il 10% impegnati in ricerca e sviluppo che aziende che fanno parte del Cluster complessivamente hanno registrato oltre 110 brevetti La filia dello spazio difesa per la nostra regione ma in realtà per il nostro paese è molto importante perché è strategica a livello nazionale essendo una industria che investe principalmente ricerca e sviluppo e innovazione è un'industria che può portare il governo delle tecnologie abilitanti per lo sviluppo all'interno del nostro territorio e all'interno del nostro paese Lo sosteniamo ancora di più perché questo è un momento di grandissima transizione dopo la grande crisi del Covid è un mercato che è ripartito in maniera potente è ripartita la componente dell'aerospazio la componente della difesa e rappresentano anche un traino per tanti meccanismi di innovazione il nostro sistema territoriale delle imprese sull'aerospazio è variegato, completo potremmo costruire persino un intero aeroveivolo in Umbria la qualità delle nostre produzioni è particolarmente apprezzata a livello internazionale e anche in quei momenti in cui lungo le catene di fornitura si creavano delle sostituzioni per riposizionamento delle catene globali del valore la produzione Umbra ha trovato apprezzamento e anzi è cresciuta a livello di mercato un sostegno indispensabile Le Bourget, sappiamo, è il secondo salone internazionale dopo Ferboro sull'aerospazio una presenza qualificata con una partecipazione nutrita alle aziende ci crediamo ci crediamo e soprattutto riteniamo che anche in conseguenza alle interventi recenti del governo sull'ambito dell'aerospazio sia estremamente corrente sostenere questo settore come driver di sviluppo non solo della regione Umbra ma dell'intero paese noi come sviluppo Umbria come ente strumentale regionale supportiamo le imprese in questo caso è davvero un onore sopportare Umbria Aerospace Cluster abbiamo organizzato la presenza di tutto il cluster presso la fiera Paris Aerospace alle Bourget quest'anno è la fiera di ripresa post pandemia quindi una fiera molto importante ed è questo un segnale di grande collaborazione pubblico-privata per noi un comparto strategico quello del cluster quindi la presenza delle imprese supportate da sviluppo Umbria per quanto concerne l'internazionalizzazione favorisce scambi commerciali ma anche più approfonditamente scambi di opportunità e di produzione proprio ad ampio spettro il prossimo servizio è cura di lega ambiente parliamo infatti di natura di difesa degli animali si chiama Libera la tartaruga che è stata liberata a largo del comune di Mattinata in provincia di Foggia in Puglia una liberazione speciale perché a riportare in mare l'esemplare di caretta caretta salvato dai pescatori e curato presso il centro di recupero e soccorso gestito da lega ambiente è stata niente di meno che la notatrice olimpionica Federica Pellegrini che la notatrice di Foggia Pellegrini che la notatrice di Foggia Pellegrini che la notatrice di Foggia Pellegrini sono super felice di aver adottato e in questo momento liberato, libera, la mia tartaruga marina adottata tramite il progetto di lega ambiente Tartalove, quindi invito tutti a farlo, andate sul sito tartalove.it, adottate la vostra tartaruga marina per prenderci cura di questo ambiente magnifico. E vediamo la rubrica sul buon cibo, curata dal nostro Carmine Bonanni, di vulgare tradizioni, lavorazione, usi e costumi legati alla pizza e all'arte del pizzaiolo negli ultimi cento anni è l'obiettivo della mostra organizzata nel capoluogo campano dall'Unione Pizzeria Storiche Napoletane. Vediamo. Rimarrà aperta fino al 23 giugno alla Casina Pompeiana in Villa Comunale a Napoli la mostra 100 anni di pizza, storia e tradizione. La mostra racconta gli ultimi cento anni di evoluzione della figura del pizzaiolo, 50 foto e diversi attrezzi a testimonianza dell'evoluzione del mestiere. Perché questa mostra fotografica? 100 anni di pizze, storia e tradizioni. Perché la vera evoluzione della figura del pizzaiolo e del mestiere del pizzaiolo che poi è diventata una professione si è avuta in questi ultimi cent'anni la tecnologia, il cambio delle farine, la stessa professionalità portata al massimo dei pizzaioli che partiamo da una figura della persona ignorante, quasi analfabeta, a uno oggi che è una persona che si è acculturata e ha portato addirittura il mestiere del pizzaiolo alla professione che gli consente di fare dei steci, gli consente di fare delle masterclass, gli consente di fare dei corsi, gli consente addirittura di organizzare delle catene di locali di franchising che prima erano impensabili. Ecco, la figura del pizzaiolo che ha avuto questa grande evoluzione è nelle nostre fotografie, perciò ha avuto questa mostra fotografica, perché dimostrare che dal vecchio pizzaiolo con quelle vecchie stampe, con quelle vecchie foto, fino ad oggi il tempo che è passato che l'unica cosa che non è cambiata è la pizza. La pizza come si faceva 300 anni fa, si fa ancora oggi, la pizza si fa con le mani, ci sono i famosi quattro ingredienti che sono sempre gli stessi, però, ripeto, quello che è cambiato è stata la professionalità e la figura del pizzaiolo. E restiamo sempre in tema, tra le tante manifestazioni di affetto nei confronti della squadra del Napoli per la conquista del terzo scudetto, ci sono quelle che viaggiano sui social. L'ultima trovata è un aperitivo azzurro proposto da Meridione, nel cuore del quartiere Chiaia di Napoli, che ha scelto l'influencer italo-brasiliana, Gledi Ottavis, meglio conosciuta come Blue Doll, 573.000 follower su Instagram e quasi 132.000 su TikTok, per lanciare un'originale proposta, che andiamo a scoprire nel prossimo video. Ragazzi, venite con me, vi porto a fare un aperitivo da Meridio Bistro. E siamo giunti al termine anche di questa puntata del TG. di Talicom. Speriamo che queste storie vi abbiano ispirato e anche informato. Vi ringrazio per averci seguito. Ricordate, l'Italia è piena di storie affascinanti e siamo qui per condividerle con voi. Alla prossima settimana da Paolo Picone. È tutto. A presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.